Un agente di viaggi, il nostro lockdown è iniziato il 23 febbraio e non sappiamo quando finirà. E' il turismo il settore che più degli altri paga gli effetti della crisi del coronavirus. Indifferente il livello di estensione delle chiusure e le conseguenze prodotte dal lockdown sull'economia italiana hanno determinato diversità rilevanti tra i settori economici, esponendo in particolar modo il turismo e attività recettive ad una crisi senza precedenti. Questa mattina davanti a Palazzo Ghilini, sede della Prefettura di Alessandria, si sono ritrovati per far sentire la loro voce rappresentanti di agenzie di viaggio, guide turistiche, albergatori, ristoratori, proprietari di bus turistici e titolari di licenza NCC. In questo Black Friday voi affrontate il problema di un anno nero invece. Le agenzie di viaggi sono fra i comparti più penalizzati in Italia. Sì, noi abbiamo scelto volutamente il venerdì nero proprio perché è un momento tristissimo per la nostra categoria, ma soprattutto per tutta la filiera del turismo. Una delle cose importanti da segnalare, senza nulla togliere alle altre categorie che stanno soffrendo, è che per noi c'è stato un calo del 95% di fatturato. E quindi questo non è uno scherzo, perché noi dobbiamo continuare a pagare quelle che sono le nostre incombenze, ma con un incassi zero, reddito zero, diventa veramente sempre più difficile. Detto questo, ci domandiamo anche come sia possibile che il resto d'Europa continui a viaggiare, perché se io avessi l'agenzia di viaggi in Svizzera piuttosto che in Germania o in Francia, potrei avere prodotto da vendere, perché ci sono clienti tedeschi, francesi, russi, polacchi, la Russia non è in Europa, però comunque fa parte di questo grande momento di pandemia, che stanno viaggiando per le Maldive, le Seychelles, Zanzibar, piuttosto che il Sudafrica, tutte destinazioni che sono Covid-free. Quindi vuol dire che viaggiare in sicurezza è possibile. Viaggiare si può, aprendo dei corridoi, facendo dei tamponi all'uscita, facendo dei tamponi all'entrata, insomma fate quello che volete, fateci lavorare, perché non è pensabile che è un anno zero per noi, ma non è un anno zero per le tasse e per i tributi, non è un anno zero per tutte le spese che dobbiamo sostenere e abbiamo veramente la necessità che qualcuno ci ascolti, siamo stati dimenticati da Franceschini. Non è possibile che noi i soldi li dobbiamo prendere, i contributi li dobbiamo prendere dal Ministero del Turismo quando gli altri li prendono dal Ministero dell'Economia. C'è già una discrepanza, c'è già qualcosa che non funziona in questo. Un'ulteriore attegola che si preannuncia a battersi sul settore saranno i mancati introiti dati dallo stop al turismo bianco, che sembra sempre più probabile con l'Italia che non aprirà le stazioni sciistiche prima del prossimo Natale, al contrario della Svizzera, che già le ha aperte, e dell'Austria che ha tutta intenzione di farlo.